Mimmo Di Orio della giuria del concorso fotografico collegata allo slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini mi dicevi sono cresciute le foto nel senso che tanti amatori della fotografia si sono avvicinati anche a questa manifestazione sì è una crescita esponenziale quest'anno è stata la terza edizione del concorso abbiamo verificato come negli anni siano aumentati i partecipanti e questo è sicuramente un buon segno anche per la manifestazione perché poi comunque alla fine queste foto è un modo di promuovere questo evento che comunque assume sempre di più ogni anno una rilevanza particolare cresce il numero dei partecipanti ma cresce anche la qualità delle foto e anche questo ovviamente è un segnale positivo perché vuol dire che comunque i tanti amatori che ci sono a Campobasso riescono negli anni anche grazie all'esperienza a migliorarsi e a migliorare i risultati. Quest'anno abbiamo avuto 23 partecipanti, 85 sono state le foto presentate e qui in mostra ne abbiamo 48 e premiate ne sono state 7. fotografare e riprendere un avvenimento sportivo è diciamo presuppone anche una certa oltre che abilità fotografica anche una certa passione perché ti devi comunque immedesimare, devi cercare di cogliere l'attimo in questo caso di una gara automobilistica. Infatti cogli l'attimo è un premio speciale che è stato voluto proprio da Luigi a Campo che ringraziamo perché ogni anno permette la riuscita di questo concorso. Sì, non è semplice già di per sé fotografare un evento sportivo, c'è bisogno di conoscere anche minimamente la tecnica della fotografia però c'è bisogno soprattutto di passione tant'è che il concorso è intitolato proprio emozioni e motori perché al di là dell'aspetto sportivo chiediamo di cogliere anche un aspetto emotivo di questo evento. Siete in crescita, dico come amatori, amanti della fotografia? Sì, tantissimi. In Campobasso uscì una statistica qualche anno fa in proporzione una delle città con il maggior numero di fotoamatori. Ci sono tantissimi ragazzi che si avvicinano a questo mondo e anche i circoli fotografici presenti qui in città vedono crescere sempre anno dopo anno il numero di associati, anche questi tipi di eventi, questi tipi di manifestazioni fanno in modo che tanti ragazzi possano mettersi in gioco anche grazie a questo concorso e tentare di manifestare quello che riescono a disporre con la fotografia.